Ancora una volta il piccolo ma grazioso borgo di Ruviano si pone come centro dinamico in cui si evidenzia ora più che mai una forte sinergia tra due generazioni in linea perfetta con gli obiettivi di sviluppo relativo ad un paese nato e cresciuto con un'economia perfettamente rurale. A tal proposito si è tenuto presso la sala consigliare del comune di Ruviano un convegno con al centro la toccante tematica del PSR Piano di Sviluppo Rurale. L'evento ha visto l'intervento del sindaco di Ruviano Roberto Cusano ed il presidente della Proloco il colonnello Pasquale Di Meo, il dottor Vincenzo Coppola agronomo, Manuel Lombardi presidente dell'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio della Coldiretti della nostra campagna e l'imprenditore agricolo Mauro della Rocca. L'iniziativa parte dal forum dei giovani capitanato dal coordinatore Carlo Coppola e dall'amministratore esecutivo Michele Esposito nonché relatore dell'evento. Quando si fa un progetto bisogna crederci ed affidarsi ai tecnici, c'è bisogno di cooperazione. Quando viene qualcuno a Ruviano dovrà pensare che qui c'è economia. Queste sono solo alcune delle battute conclusive di un convegno giovane ma che guarda alla tradizione e che anticipa la tanto attesa festa della cultura contadina. E da Ruviano è tutto, Mariangela Marotta per casertasera.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.